Eccoci qui, bene, credo che questo video noi mamme lo abbiamo visto diverse volte durante il periodo del lockdown, ci abbiamo un po' reso su e un po' ci siamo immedesimate, devo essere sincera, perché tutti noi abbiamo affrontato per la prima volta la didattica a distanza, ci siamo rese conto di quanto fosse complicato il mestiere dell'insegnante e abbiamo anche compreso come quello che poteva sembrare assai banale, cioè appunto la rappresentazione attraverso lo schermo di una esperienza didattica in realtà fosse qualcosa di decisamente più complesso, con dei risultati, dei risvolti a volte ridicoli e a volte quasi drammatici, devo dire. E a proposito di questo io partirei quindi subito con la prima domanda e in particolare la vorrei rivolgere a Lancini, il nostro psicologo, perché noi parlavamo prima del tema che è appunto quello del trauma, il trauma che abbiamo vissuto tutti un po' come esperienza didattica, sociale, personale, emotiva e anche appunto scolastica, ma in particolare questi studenti come hanno raggito? Semplicemente con quella sindrome della Tana di cui abbiamo tanto sentito parlare e che magari Lancini ci ricorderà che cos'è, oppure c'è stato anche l'utilizzo di qualche risorsa un po' dimenticata? Ma a linea di massima io devo dire che gli adolescenti a patto appunto di conoscerli e non stare dentro delle visioni stereotipate dell'adolescente onnipotente o trasgressivo, che peraltro non è certo la caratteristica degli adolescenti odierni che sono tutto meno che trasgressivi, si è adattato, ha capito, ha compreso, ma nel momento in cui, e in questo è stato molto importante, in cui gli adulti lo hanno responsabilizzato. Ora secondo me è troppo presto per tirare conclusioni su che ricadute avranno sulle giovani generazioni queste questioni. Io ho un po' più di preoccupazione per i bambini piccoli e non a caso facciamo di tutto per mantenere aperte appunto da tutte le parti le scuole primarie laddove è possibile perché l'interruzione di relazioni in ragazzi che ovviamente erano nell'inizio bambini nel pieno delle attività, delle conoscenze, della costruzione, anche di relazioni dal vivo ovviamente è più difficile l'utilizzo della tecnologia anche a scuola per bambini molto piccoli, quindi sono quelli che temo porteranno dietro un po' più diciamo cicatrici. Gli adolescenti tutto sommato non che non soffrono, stiamo bene a casa tutt'altro, non ne possono più neanche loro come sappiamo, però si sono comportati bene durante il primo lockdown e penso si comporteranno bene anche in questo e lo stanno dimostrando, anche queste diciamo dimostrazioni fuori da scuola sono molto sostenute dagli adulti, non sono positive. Non dimentichiamoci che se ci sono generazioni che dovrebbero avere qualche motivo per contestarci davvero sono queste per come sono andate le cose negli ultimi anni, invece come vediamo sono pacifiche. Detto questo penso che molto dipenderà questo ritorno a una vita che non sarà più la normalità diversa da come gli adulti la gestiranno e qui ho un po' più di preoccupazione perché quello che sto vedendo in questo periodo e mi preoccupa di più non è tanto come dire il tema della sofferenza legata a questa situazione di difficoltà, gli adolescenti sanno anche parlare del dolore, lo possono affrontare anche con i genitori, è diverso rispetto ai bambini, ma il tema è che modelli di adulti proponiamo e io su questo credo che tutti in questo momento abbiamo una responsabilità straordinaria, cioè vedere e proporre dei modelli che non alimentino ulteriormente l'individualismo, la competizione e tutti i temi che in questi anni hanno portato a farsi appunto che gli adolescenti si rivolgessero ad altri adulti o ad altre figure o piuttosto ai coetanei facendo perdere un po' di credibilità agli adulti. Mi lasci dire un'ultima cosa, io credo che l'emergenza educativa in Italia da anni e il lockdown lo sta dimostrando ulteriormente e quindi va assolutamente fermata è che c'è in corso un processo di adultizzazione o di precocizzazione dell'infanzia a cui segue un'infantilizzazione dell'adolescenza. Bambini che sono fatti crescere in modo espressivo, creativo, in cui gli si dice che è importante non stiano mai da sole, crescono appunto anche a distanza con la madre virtuale che sappiamo essere colei che governa ormai la famiglia a seguito della crisi e della scomparsa dell'autorità paterna, poi arriva l'adolescenza e purtroppo in linea di massima sia la scuola, sia i servizi psicosocio-sanitari, sia i ruoli affettivi materni e paterni ripartano con la solito, diciamo, stereotipo sull'adolescente da normale, da regolare e via dicendo. Oggi dobbiamo avere in mente che i ragazzi sono diversi, sono ragazzi un po' psicologizzati, pronti ad assumersi le responsabilità e mi auguro che non le si debba sempre valutare come fossero dei bambini da civilizzare e ovviamente in particolare mi rivolgo a quelle situazioni che ovviamente incontro ogni giorno dai racconti dei ragazzi, non dei tantissimi insegnanti, presidi che fanno miracoli in questo momento li potrei elencare ma ovviamente c'è ancora chi pensa che convenga interrogarli bendandoli davanti a questa occasione. La pandemia è una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo, i ragazzi non hanno dei debiti, hanno dei crediti verso gli adulti in questo momento. È vero, è verissimo, è verissimo e probabilmente dopo ne riparleremo ancora di questo argomento perché l'adultizzazione mi sembra un tema su cui si potrebbe fare proprio un panel a parte però io a proposito di adulti e di reazioni volevo chiedere a Bardi come hanno reagito appunto questi adulti ma in particolare gli adulti quelli della scuola, i docenti, gli insegnanti di scuole elementari ma anche i dirigenti, cioè tutta la scuola, come ha reagito a questa trama, a questa crisi secondo lei? Ma allora indiscutibilmente la scuola si è trovata di fronte ad una realtà, ad una situazione che non era assolutamente in grado di gestire. Io ho sentito per molto tempo dei commenti da parte anche della stampa che diceva ma la scuola non era pronta perché i docenti non si sono formati nella maniera adeguata. È chiaro che i docenti si sono formati nell'arco degli anni, anche e soprattutto dopo il Piano Nazionale Scuola Digitale quindi dopo il 2015, soprattutto sulle competenze digitali e hanno dimostrato che queste competenze sono servite tantissimo perché hanno saputo comunque affrontare questa situazione del tutto nuova certo non avevano mai fatto una didattica a distanza ma perché non ce n'è mai stata l'occasione di fatto cioè si potevano creare magari delle aule virtuali dove si lavorava con i ragazzi, si usava la tecnologia in classe ma la didattica a distanza vera non l'avevano mai fatta quindi è chiaro che si sono trovati di fronte ad una situazione completamente nuova all'improvviso e è una situazione veramente emergenziale dove le infrastrutture, le tecnologie, le bande c'erano o non c'erano cioè tutta l'organizzazione che c'è dietro ad una didattica a distanza molto spesso mancava certo che per le scuole superiori magari erano già più preparati perché le scuole superiori hanno sempre avuto anche dei finanziamenti per poter i ragazzi più grandi per poter utilizzare le tecnologie, avere delle scuole già più strutturate a livello digitale un problema molto più grosso era sicuramente delle scuole primarie che non avevano le infrastrutture, che non avevano le competenze per poter affrontare una situazione di questo tipo quindi all'inizio secondo me nel primo mese c'è stato un grande smandamento una grande però messa in gioco da parte della scuola che comunque ha saputo affrontare questo problema quindi per poi andare un po' a regime certo con una stanchezza incredibile da parte dei docenti ora avere delle capacità di comunicazione e di fare lezione davanti al web direi che è molto ma molto difficile piuttosto che farla in classe manca l'empatia, manca il rapporto con i ragazzi non hai di fronte il viso dei tuoi ragazzi, talvolta quando fai delle lezioni anche sincrone quindi per me la scuola ha fatto veramente dei miracoli poi ci sono stati dei docenti che si sono un po' rifiutati e quindi hanno demandato alle famiglie il compito di affrontare l'abbiamo visto anche nei video, le famiglie che dovevano fare i compiti con i figli gli dovevano spiegare le materie talvolta soprattutto nel primo periodo ci si accontentava di dare i compiti magari sul registro di classe e poi a casa si dovevano scaricare i compiti, si dovevano stampare e le famiglie sono state coinvolte a 360 gradi con delle difficoltà spesso enormi perché ci sono stati poi dei gap che si sono venuti a creare notevoli perché ci sono delle famiglie più culturalizzate che avevano già delle infrastrutture, delle competenze che potevano permettere di aiutare i propri figli altri invece che anche proprio per cultura magari non erano assolutamente in grado di farlo oltre al fatto che c'erano delle zone o delle famiglie che non avevano le tecnologie a disposizione o non avevano la banda a disposizione quindi delle criticità enormi e io dico che la scuola ha fatto un passo da gigante per la prima volta c'è stato veramente un forte fortissimo patto educativo nuovo con le famiglie perché le famiglie nel bene o nel male hanno comunque lavorato con la scuola per dare anche normalità alla vita dei propri figli noi abbiamo sentito come in Pala Digitale abbiamo fatto delle esperienze abbiamo fatto parlare i ragazzi abbiamo fatto parlare i docenti e anche i genitori e tutti ci dicevano la stessa cosa se non ci fosse stata la scuola come ancoraggio alla normalità i ragazzi sarebbero andati ulteriormente in crisi quindi tutto questo non deve andare perso soprattutto questi nuovi rapporti che si sono venuti a creare ci sono tante criticità la scuola è formata da un numero infinito di individui, di docenti che ognuno di loro ha delle proprie competenze delle proprie predisposizioni anche alla tecnologia perché insomma ci sono anche dei docenti che possono dire io la tecnologia non l'amo non la so usare uso a malapena il cellulare e mi rende estremamente difficile fare una didattica a distanza però si sono dati da fare si sono messi in gioco e hanno vinto questa sfida e adesso si rincomincia in una modalità nuova e diversa direi perché oggi comunque delle competenze digitali le hanno acquisite quindi adesso ci si concentra anche molto di più sui contenuti prima nel periodo del lockdown del marzo, aprile, maggio si diceva anche se non fai il programma non importa l'importante è entrare nelle case dei ragazzi e dei bambini e far sentire loro che la scuola c'è che la scuola li rende una comunità che le famiglie e i docenti sono lì per aiutare i bambini e i ragazzi ad andare avanti in una situazione così come ha detto il professor Lancini così di trauma estremamente forte quindi io credo e ho sentito appunto docenti che dicevano noi abbiamo fatto anche tanto supporto psicologico a questi ragazzi però i docenti ne sono usciti stravolti perché hanno dovuto mettere in gioco una miriade di situazioni competenza digitale trasformare una didattica da presenza a distanza lavorare parlando con un web difficilissimo secondo me prepararsi le lezioni prepararsi le lezioni per una modalità completamente diversa supportare i ragazzi che erano in crisi dibattere con le famiglie quindi insomma io credo che la scuola meriti un premio certo poi a questo proposito a proposito delle famiglie dopo le rivolgerò un'altra domanda che ci arriva proprio dal nostro pubblico cioè le famiglie come sono state preparate alla didattica a distanza perché il video anche se ironico in realtà raccontava molto di quello che è successo in tante case durante questi mesi ma direi ne parliamo dopo io volevo approfittare adesso parlavamo appunto dei mezzi di utilizzo con Carraro vorrei parlare proprio di questa possibilità loro forse per tanti anni sono stati visti un po' come pazzi visionari magari questo è stato il momento della loro rivincita cioè tutti quegli strumenti che utilizzavano finalmente diventavano fondamentali per immergere davvero i ragazzi all'interno della didattica ma non solo per farli partecipare a quella vita che ormai era solo virtuale è andata veramente così? ma diciamo che la scuola ha fatto uno sforzo enorme che va riconosciuto straordinario ha saputo affrontare la crisi ed è riuscita in qualche modo a gestire una situazione drammatica a questo punto guardando oltre chiaramente la crisi credo che convenga riflettere su questo sforzo di innovazione che è stato fatto e cercare di farlo diventare uno strumento di crescita della società diciamo che prima della crisi quando tu entravi quando i ragazzi entravano in internet alla fine entravano nel cosiddetto peggior bar di Caracas cioè in pratica entravano in qualcosa di veramente di scarso livello social network che dicevano cose improprie, inesatte, fake news, peggio hanno cominciato a utilizzare il digitale per crescere per comprendere sono entrati in biblioteche sono entrati in pinacoteche sono entrati nei musei sono entrati in nuove metafore che in qualche modo fanno capire che il digitale non è solo un espediente per sopravvivere in questo caso ma uno strumento straordinario per dare una nuova forma della conoscenza perché questo secolo sarà caratterizzato dal digitale tutte le forme di conoscenza avranno una forma dominante digitale la scuola è in prima linea per appunto elaborare nuove forme digitali della conoscenza e chiaramente questa accelerazione del 2020 ci sta spingendo a elaborare nuove forme digitali di apprendimento Lei parla di nuove forme generali di apprendimento io vorrei appunto legarmi a quanto sostiene anche Chiofalo con cui ho parlato qualche giorno fa ma appunto sono state messe in discussione nuove forme di apprendimento ma anche dei luoghi comuni della cultura scientifica in che modo quindi che tipo di opportunità potrebbe rappresentare anche questa che sembra una grossa difficoltà per un certo ambito didattico e di apprendimento Sì, innanzitutto grazie per la domanda volevo solo a proposito di cura salutare la città di Bergamo che ci ospita perché penso che sia nel cuore di tutte e di tutti noi rispondo alla domanda Io credo, riconnettendomi anche a quanto diceva Matteo Lancini che la Covid ha rappresentato una grande opportunità è molto difficile dirlo, è ossimorico dirlo nella tragedia può rappresentare se noi lo vogliamo una grande opportunità innanzitutto nell'identificare quali sono i termini attraverso i quali noi possiamo agire questa cura è una narrazione che va tra la guerra e il conflitto e noi forse ci dobbiamo occupare del conflitto mentre la narrazione che c'è stata in lungo e in largo è stata quella della guerra della cura solo della salute invece della cura generale e poi dell'emergenza invece appunto della crisi e dell'opportunità che la crisi porta da un punto di vista delle opportunità del nuovo modo anche di vedere il ruolo la funzione della scienza nella gestione della crisi vorrei condividere un messaggio un'idea molto semplice l'economia alla fine è una questione di risorse e noi abbiamo delle risorse che sono quelle del pianeta e le dobbiamo salvaguardare quindi questo ci conduce all'importanza delle politiche ambientali ma ci sono anche delle risorse che non sappiamo di avere sono quelle che noi ghettizziamo perché non sappiamo riconoscere le risorse umane le capacità umane che possono essere messe in luce soltanto grazie alla personalizzazione dell'intervento educativo e formativo e poi le risorse che dobbiamo inventare e le risorse perché non le abbiamo le risorse che noi dobbiamo inventare passano esclusivamente attraverso politiche di educazione e di istruzione e attraverso politiche per la ricerca scientifica penso per esempio anche alle ultime tecnologie in particolare anche alle ultime tecnologie quantistiche che nei prossimi dieci anni vent'anni rivoluzioneranno le nostre vite anche da un punto di vista della ricerca medica della ricerca di nuovi farmaci della ricerca di un contrasto a condizioni come quella pandemica che abbiamo vissuto gli altri ambiti in cui la scienza secondo me viene fortunatamente spero almeno che venga valutata rivalutata, riconsiderata diversamente naturalmente nell'importanza del pensiero scientifico l'importanza del pensiero scientifico come modo di risolvere i problemi risolvere i problemi molto complessi Covid per noi è stata una grande a volte diciamo improvvisazione nella soluzione di problemi molto complessi pensiamo anche a come la politica ha dovuto raccordarsi con la tecnica, con la scienza e di come ciascuno e ciascuna di noi ogni cittadino, ogni cittadina abbia potuto fare la propria parte oppure non farla perché non ha magari una visione sufficientemente ampia la scienza è importante innanzitutto per il pensiero scientifico non solo e non soltanto per le conoscenze che porta con sé ma che consente, dico il pensiero scientifico il sviluppo del pensiero scientifico di leggere le soluzioni che vengono proposte pensiamo alla questione dei 21 indicatori che sono troppi per chiunque e comunque sono troppi anche oggettivamente o anche a scrivere le soluzioni per chi quelle soluzioni le deve provvedere poi c'è la questione dell'alfabetizzazione scientifica io credo che il covid abbia messo in luce un grossissimo problema di alfabetizzazione ricordo le parole di Angela Merkel che oltre a essere la cancelliera tedesca la sua formazione è quella di una fisica la Merkel dice chiunque conosca ha detto chiunque conosca la funzione esponenziale sa che RT 1.3, 1.4 non è accettabile siamo il continente dell'illuminismo e la matematica è importante quindi questo è un esempio che credo tocchi con mano la situazione ma anche il fatto che per esempio per fare l'analisi della pandemia a partire dai numeri io ricordo nel primo lockdown quella lunga sequela di numeri che venivano dati ogni sera un'ansia pazzesca per prendere davvero poco perché i numeri che ci servono non sono quelli che sono passati ma sono quelli che tu puoi in un certo modo prevedere con una certa probabilità attraverso l'analisi statistica in quanti talk show in quanti luoghi diciamo di discussione sulla pandemia sono stati invitati o invitate statistici a parlare dei numeri che sono di interesse che sono quelli di probabilità e sapere anche che questa probabilità è una probabilità condizionale della ricerca scientifica ho detto vorrei aggiungere un ultimo punto che è quello sulla comunicazione scientifica in questi giorni sto seguendo un workshop in pratica in contemporanea anche organizzato da VIS uno spin off della scuola normale superiore per l'autrice e la divulgazione scientifica e uno dei temi dibattuti è proprio la questione di come da un punto di vista della comunicazione i dati e gli aspetti scientifici sono stati condivisi con la popolazione a partire dal fatto che a volte non sono stati condivisi per niente ricordo il bellissimo intervento di Tito Boeri nel primo panel di questa mattina e l'importanza della capacità di lettura di quei dati di fondarsi sui dati e la questione del negazionismo che è una del negazionismo scientifico che è una realtà con la quale non si può a proposito di guerre e di conflitti non si può essere in guerra ma bisogna gestire il conflitto e bisogna superarlo perché non convinceremo mai nessun negazionista semplicemente riportando i dati della scienza bisogna entrare in contatto con le persone bisogna stabilire e coltivare un dialogo anche quando la cosa davvero non ci piacerebbe questo magari ne parliamo poi ne parlerò più diffusamente nella in una seconda in un secondo giro ma insomma ci sono alcune idee parecchio di ispirazione che possono aiutarci a capire magari qual è un po' il filo logico il pensiero che potremmo seguire per tenere in conto tutti questi aspetti assolutamente infatti lo sviluppo del pensiero scientifico ma anche mi sembra di capire sia fondamentale non adattare gli schemi vecchi a quelli nuovi cioè alle nuove realtà no Maragliano è proprio questo il senso di quello che diceva lei quando parlava della crisi triplice beh sì crisi triplice è difficoltà di affrontarla perché è una crisi interna diciamo così alle modalità didattiche della scuola una crisi interna ai contenuti dell'insegnamento è una crisi nel rapporto tra scuola e società queste tre crisi oggi fanno saltare il banco è inutile e allora mi chiedo visto che sono state dette moltissime cose e tante altre in questa giornata se ne diranno come si potrà portare a sintesi è quello che chiede la ministra datemi delle indicazioni la indicazione che mi sentirei di dare è discutiamo cioè mettiamo in gioco tutte le nostre certezze accettiamo di essere incerti accettiamo di affrontare la realtà per quello che è oggi smettiamo di come dire di proclamare la giusta via pur che sia cioè la scuola pur che sia torniamo a scuola riapriamo la scuola pur che sia o siamo in rete pur che sia no bisogna fare delle scelte impegnative cosa vuol dire fare scuola dopo la crisi perché è chiaro che questa crisi di quest'anno segna un un fatto storico a livello mondiale ma a livello nazionale cosa significherà poi riprendere a pensare operativamente la scuola e l'università che ha possissime responsabilità nella difficoltà a gestire le tre le tre crisi vorrà dire comunque accettare diciamo condizioni anfibie cioè di operare in presenza e con l'online ma ovviamente l'online andrà trattato per le sue caratteristiche fondamentali e non soltanto per ciò che rimanca alla presenza fisica e viceversa anche la presenza fisica va comunque ridimensionata rispetto ad una situazione di apertura cioè si tratta effettivamente di mettere in gioco tutto ma mettere in gioco vuol dire poi cominciare a pensare a diverse organizzazioni cioè noi abbiamo ereditato una tradizione di scuola come luogo del disciplinamento del sapere e vediamo invece che al di fuori del mondo scolastico il sapere funziona laddove è come dire non troppo irrigidimentato ecco dove si sente libero di modificarsi trasformarsi di vivere di respirare quindi abbiamo bisogno di affrontare seriamente il problema della mobilità del sapere è un problema epistemologico insomma è un problema relativo alla messa in discussione dei rapporti tra umanesimo scienza e tecnologia e voglio semplicemente fare un esempio perché altrimenti poi sembra che siano soltanto come di ripetizioni di principio mi piace fare questo esempio proprio qui diciamo tra virgolette qui a Bergamo Patria di Donizetti ecco riguardo l'aspetto proprio umanistico allora io potrei benissimo essere poco interessato alla letteratura no non leggere poesie però ovviamente sono assolutamente ben sicuro del fatto che la dimensione letteraria deve essere presente nella scuola quindi se io dico l'importanza della della lirica non lo dico semplicemente perché mi piace io potrei essere assolutamente ignorante però riconosco che dal punto di vista economico dal punto di vista comunicativo dal punto di vista esperienziale dal punto di vista teatrale in senso lato in senso simbolico il teatro lirico ha un ruolo centrale non nella cultura nazionale ma nella cultura internazionale è uno dei veicoli fondamentali dell'italianità e dell'essere umani al mondo ecco non soltanto di essere italiani a parte fatto della lingua italiana che è centrale allora questo esempio per dire cosa c'è dentro la scuola del precipitato di questa cosa niente non è un problema di educazione alla musica non è un problema di storia della musica è un problema di concepire la cultura come performance concepire la cultura come ascolto percepire la cultura come partecipazione percepire la cultura come anche piacere sì sì chiarissimo chiarissimo intanto a questo proposito poi dopo preparo una domanda per Chiofalo gliel'anticipo così intanto ci pensa su perché ci arriva dal pubblico ma mi sembra proprio interessante cioè pensiero computazionale pensiero scientifico come si armonizzano con la necessità di un nuovo umanesimo per appunto quello di cui stavamo parlando è molto interessante direi che ne parliamo fra poco perché vorrei dare la parola anche alla nostra Gianfaglia che sta aspettando e secondo me anche qui possiamo trovare uno spunto da quello che ci diceva Maragliano ma anche da quello che ci diceva prima Chiofalo cioè mi sembra che ci sia un passaggio proprio di concezione e anche nel modo in cui si approcciano le dinamiche non solo didattiche quindi si passa in qualche modo dalla cura all'ai care e in che senso secondo me Gianfagna si può dare un qualche indizio utile Buongiorno a tutti innanzitutto beh attraverso quella che è la programmazione e la formazione noi abbiamo in qualche modo diciamo programmato la nuova scuola già durante il lockdown di marzo aprile perché appunto bisognava già pensare a quella che era la ripartenza quindi programmando quella che è la nuova scuola appunto gli ambienti anche quindi modificando gli ambienti non soltanto gli ambienti io dico da un punto di vista proprio della sicurezza in questo caso della pandemia per quanto riguarda il distanziamento altro ma anche gli ambienti di apprendimento quindi abbiamo per esempio preso e affittato dei robot ce ne sono due all'interno del convinto che appunto girano per fare lezioni noi abbiamo pensato appunto a un digitale io dico in movimento e anche che facesse interagire i ragazzi nel senso che attraverso questa modifica degli ambienti abbiamo permesso in qualche modo ai ragazzi per esempio in isolamento di collegarsi con la propria classe di essere presente di comandare in qualche modo col proprio smartphone il robot che è un avatar dell'alunno in quel caso e che prende si siede al banco del ragazzo e osserva e fa la lezione oppure addirittura permettere al docente in isolamento di fare lezioni da casa e di vedere i propri ragazzi seguiti da un tutor in classe o abbiamo previsto attraverso le tecnologie anche lo sdoppiamento delle classi quindi il docente che è in una classe divisa a metà in un altro ambiente e nell'altro ambiente ci va il robot questa è un po' diciamo la programmazione per gli ambienti il cambiamento degli ambienti quindi abbiamo preso di buono qualcosa dalla pandemia come dicevano appunto anche gli altri e siamo cresciuti e poi sicuramente la formazione noi abbiamo giocato una carta importante abbiamo cambiato un po' l'anno scolastico cioè siamo partiti come scuola il primo ottobre da quella che è la scuola classica perché invece siamo partiti il 3 settembre con i ragazzi e i docenti in formazione cioè per noi il mese di settembre è stato il mese della formazione quindi non abbiamo anche perché i ragazzi e i docenti erano andati via da scuola in qualche modo quasi scappati senza sapere poi che non ci sarebbero più tornati il 5 marzo e sono rientrati a settembre non si poteva certo far pinta di dire come se nulla fosse accaduto allora bisognava farli abituare alla nuova scuola formarli e piano piano anche li abituati a stare tra di loro in un modo diverso e a fare lezioni quindi da una parte i docenti hanno avuto i corsi di formazione con esperti e dall'altra quindi non li abbiamo messi insieme e dall'altra hanno fatto formazione i ragazzi alla nuova scuola anche a spostarsi negli ambienti a comunicare in maniera diversa e abbiamo fatto la formazione per 20 giorni sul nuovo metodo di studio il 3 ottobre siamo partiti io dico con leggere scrivere e far di conto adesso è tutto normale e naturale per esempio che se un ragazzino sta a casa perché risulta positivo immediatamente arriva la mail dice io mi collego e sono in DAD quindi per noi la DAD adesso è una cosa normalissima oppure appunto mettere in collegamento la classe con l'insegnante che sta a casa praticamente è diventato quasi naturale questo nuovo modo di fare scuola tant'è vero che noi che viviamo cioè il Molise insomma diciamo soprattutto Campobasso è una città molto fredda quando ci sono le previsioni del tempo Potenza e Campobasso sono diciamo lì allora sono molto importanti famose diciamo arriviamo sotto zero come se niente fosse prima io dico la scuola si chiudeva e si fermava per la nere anche un mese adesso noi abbiamo imparato che non ci fermiamo perché se la scuola non è il luogo fisico dove si viene la scuola quindi può anche non fermarsi mai ok c'è la neve si fa scuola in un altro modo questo è quello che abbiamo appreso quindi il nuovo cambiamento come prendersi cura attraverso la formazione continua e la programmazione serie mi sembra di capire che molto bello quello che ci ha detto Gianfagna mi sembra di capire che imparare a ridefinire i propri ruoli in qualche modo è stato fondamentale nella gestione di questa crisi e così introduco anche un po' l'argomento di cui volevo parlare con voi dopo anche spiegando e raccontando una domanda che ci sta arrivando dal pubblico allora questa ridefinizione di ruoli non sempre è stata semplice faccio intervenire Bardi un attimo in anticipo rispetto a Lancini perché appunto dal pubblico ci si chiedeva ma effettivamente questa famiglia poi questi genitori che improvvisamente si sono trovati ad essere educatori accompagnatori assistenti eccetera come sono stati preparati perché stiamo parlando tanto di come la scuola ha reagito di come gli ambienti didattici sono stati modificati ma in realtà poi ci ritroviamo con tutta una parte interna le case dove ospiti indesiderati sono diventati ad un tratto elementi fino ad ora sconosciuti completamente sconosciuti alla normalità della vita quotidiana Bardi ci aiuti a capire c'è stata una preparazione in questo senso forse questo è uno dei gap che dovremmo andare ad analizzare a colmare nei prossimi mesi che siano stati preparati no i genitori si sono trovati veramente in una situazione ancora più drammatica dal mio punto di vista soprattutto i genitori dei bambini più piccoli cioè di quelli che avevano hanno dovuto necessariamente come ho detto prima sostituire anche l'aspetto didattico cioè la maestra che doveva spiegare la maestra che ti dava il compito spiegare ai bambini un argomento è chiaro che è fatto dal docente ha un suo significato fatto dal genitore ma il genitore può non essere stato in grado neanche culturalmente di farlo anche sulle cose anche più semplici abbiamo visto il video prima la mamma che di fronte cosa sono i nomi reprimi scappa via cioè il gap che si è venuto a creare è stato veramente notevole è proprio un gap culturale e molto forte quindi la famiglia non è stata preparata e non poteva esserlo come i docenti hanno dovuto imparare facendo proprio man mano che c'erano delle necessità anche i docenti hanno imparato a utilizzare le tecnologie e a proporsi in una certa maniera però come dicevo anche prima questo all'inizio ha portato anche un po' di contrasto tra le famiglie e i docenti e la scuola perché le famiglie si sono sentite sovraccaricate di compiti e di ruoli che non potevano avere che non sapevano come affrontare però gradatamente io credo che le famiglie abbiano compreso quello che dicevo io prima un nuovo patto educativo abbiano compreso il grande sforzo fatto dalla scuola e l'importanza del ruolo del docente e l'importanza del ruolo della scuola essersi messi insieme per il bene dei propri figli e dei propri ragazzi questo è stato un momento importantissimo dal mio punto di vista è chiaro che io credo che anche i genitori abbiano imparato molto e quale sarà il passo successivo quindi scusa? il passo successivo quindi quale sarà? il passo successivo secondo me l'oggi fortunatamente i bambini sono a scuola cioè i bambini delle primarie e dell'asilo fino alle scuole secondarie di primo grado sono a casa tranne quelle della terza media diciamo così e speriamo che non debbano mai ritornare in lockdown però io credo che tutto ciò che hanno imparato nella prima fase sia una buona base ma anche i docenti hanno cambiato completamente l'approccio almeno sulle competenze digitali e i genitori sicuramente si sono messi in gioco e hanno imparato tantissimo è chiaro che è un passo un passo alla volta secondo la necessità il vivere oggi quello che il problema che l'oggi ti pone chiaro che la scuola ha bisogno di altro dal mio punto di vista di una formazione diversa di una formazione didattica e non soltanto sulle tecnologie questo è il mio punto di vista e la scuola non ha avuto tempo di fare questo tipo di formazione i docenti si sono trovati a valutare prima parlavo con il professor Lancini mentre ci aspettavamo ma la valutazione ma voi capite che un conto è fare la valutazione in una didattica normale un conto è fare una valutazione in un contesto completamente diverso completamente nuovo quindi ci doveva essere una preparazione didattica di riprogettazione della scuola che la scuola non ha avuto il tempo di fare non ha avuto il tempo perché in questi mesi è stata presa da tutti gli elementi della sicurezza delle distanze degli ambienti nuovi quindi poche scuole si sono potuti mettere in gioco in questo senso forse di più le scuole secondarie di secondo grado perché comunque già più abituati ma sicuramente gli altri ordini di scuola hanno dei problemi oggettivi e il dramma che può capitare oggi è quello di vedere le sei ore di lezione orario tradizionale della scuola trasferito nell'online il che è improponibile da un punto di vista didattico cioè anche di attenzione da parte dei ragazzi è davvero difficile stare sei ore di fronte a un monitor a fare lezione anche se dà le pause anche se fai degli intervalli ma riproporre ciò che si fa in presenza nell'online non è fattibile non è proponibile bisogna proprio riprogettare la scuola ma questo anche come diceva il professor Maragliano quando si tornerà in classe non si può più pensare ad una scuola come quella di febbraio la scuola oggi è diversa e la didattica a distanza si deve integrare costantemente con una didattica in presenza perché è il mondo dei nostri ragazzi anche cioè per la prima volta i ragazzi ci hanno aperto il loro mondo noi docenti siamo entrati nel loro mondo e abbiamo visto come loro studiano come loro apprendono come interagiscono come comunicano e quindi sono tutti elementi che noi dobbiamo tenere in considerazione non possiamo pensare di tornare a scuola e ripartire con la lezione tradizionale perché io lo continuo a dire il grosso rischio è che i docenti saranno talmente stanchi delle tecnologie che rientrano a scuola che non le vogliono più vedere adoreranno la didattica in presenza ma via le tecnologie perché poi il rischio può essere anche questo quindi c'è tutta una trasformazione che si deve mettere in atto non è detto perché appunto come ci diceva Gianfania prima invece magari si approfitta della tecnologia per sfruttare i giorni in cui nonostante la neve continuo a fare lezioni speriamo che si vada in questo senso quindi dicevamo nuovi ruoli nuovi profili nuove menti e noi adulti che siamo entrati in qualche modo nelle camere dei nostri ragazzi ma i nostri ragazzi come si sono riadattati a tutto questo Ciancini ci aiuti un po' a capire questi adolescenti soprattutto che tipo di profilo sta emergendo fra di loro si stanno rintanando rinchiudendo oppure in effetti anche loro hanno scoperto che finalmente quel mondo che sembrava un pop di nicchia può diventare invece il mondo di tutti e quindi di conseguenza può diventare un argomento di condivisione ma la verità è che mettere la faccia davanti allo schermo per alcuni ragazzi non è semplice ad esempio io pensavo no si sentiva dire i ritirati i ragazzi ritirati rimetteranno la faccia quello a cui assisto io in realtà che questo tema della relazione che a mio avviso è centrale può apparire banale ma è fondamentale bisogna averlo in mente per come funzionano i ragazzi di oggi oggi mettere la faccia per alcuni di loro davanti allo schermo questo è un problema è più invasivo apri anche come dire la tua stanza entri in un mondo privato e quindi altro che i ragazzi che non si capisce perché da ritirati non mettono la faccia abbiamo un aumento e questo è l'unico dato secondo me certo di adolescenti soprattutto maschi che non seguono le lezioni a distanza perché può essere un modo di sovraesporsi in rete allora questo è il tema fondamentale dobbiamo avere in mente che la relazione può essere profondissima anche attraverso l'online è inutile negarlo siamo tutti per il ritorno a scuola ma ci può essere una relazione profonda una vicinanza che tu devi rimodulare attraverso la rete come ci può essere distanza a scuola è inutile negarlo ci sono relazioni in presenza che non necessariamente sono più profonde guardate questo noi l'abbiamo imparato nelle ricerche io non l'avrei mai creduto ragazzi che ci spiegavano ai tempi di messenger che potevi essere in una relazione più profonda con la tua amica il pomeriggio su messenger appunto che la sera in presenza in dieci in una birreria dove non ti scambiavi contenuti profondi del resto anche noi ci siamo emozionati davanti a delle lettere e non ci dicevano che eravamo dipendenti dalla carta pigna che era praticamente quella su cui arrivava la busta della tua fidanzata o gli amici di penna poi abbiamo scoperto che i ritirati sociali avevano i veri amici erano quelli con cui combattevano le battaglie online che poi li diventavano amici veri li incontravano in occasione di un games week a Milano o di un romics a Roma o di un Luca Comics Festival ma dico di più i bambini di oggi sono cresciuti in una relazione profondissima con la mamma che molto spesso ne abbiamo parlato più volte anche nelle interviste io e lei è più distante col corpo di quant'era mia nonna ma è molto più vicina affettivamente è la madre virtuale quindi ha creato una relazione di identificazione e controidentificazione più profonda quindi il tema a mio avviso è la relazione mi lasci dire un'ultima cosa è meraviglioso partecipare a questi incontri che Dianora Bardi perché io quando dicevo che si può trasformare forse il mio mestiere inevitabilmente una crisi in un'occasione di crescita è quello che sento in queste iniziative anche io voglio dare un'indicazione didattica integrata digitale quando torneremo a scuola che le scuole siano aperte io so che ci sono un sacco di problemi dal lunedì alla domenica 24 ore al giorno il vero luogo di come dire riuscire a ridurre le distanze sociali connessa 24 ore al giorno con prove di maturità faccio un ultimo appello mi auguro di non ricevere ancora interviste il prossimo maturità dicendo ma i ragazzi come facciamo a fare che non copino basta aprirgli internet sei ore di prova open internet e vi posso garantire che ci saranno 25 prove diverse da valutare è ora come si diceva di capire cosa serve ai nostri ragazzi serve relazione con internet acceso saggezza digitale educazione al digitale presenza digitale uso al digitale poi sento addirittura finalmente i saperi che si parlano non so se questa è la grande occasione per riorganizzare il fatto che non si sa se ha così senso tutta ancora una scuola organizzata nello strapotere delle discipline come se le materie fossero da studiare come dei palombari grazie Lancini grazie mi sembra che abbia dato proprio la Carraro questo mondo che immagina potrebbe essere il loro mondo ideale no Carraro e tra l'altro per lei ho una domanda anche da parte del pubblico è plausibile effettiva la lifelong learning digitale? quindi mi risponda velocemente prima a quello che le chiedevo rispetto a a Lancini e poi mi dica allora io sono d'accordo con gli interventi precedenti che cercano di pensare in positivo cioè è stata un'esperienza traumatica però è stata anche un'accelerazione in cui la scuola si è messa in gioco ha verificato che il fatto che la scuola entrasse nel mondo digitale in realtà è stato molto positivo perché i ragazzi hanno capito che potevano relazionarsi anche non solo diciamo divertendosi ma potevano anche discutere tra loro di cose interessanti e gli stessi docenti presenti nel digitale hanno cambiato la percezione del digitale stesso in Italia è cresciuto il digitale è diventato qualcosa di serio è diventato qualcosa che fa crescere l'intera società e questo è l'obiettivo però dobbiamo creare strumenti nuovi che non sono le piattaforme americane che in realtà puntano ad abbassare il livello culturale creare piattaforme nuove europee e italiane che facciano crescere la società che facciano aumentare la condivisione di conoscenza la profondità delle relazioni questo è il futuro questo è quello in cui noi dobbiamo investire dare competenze ai docenti formarli dare risorse dare contenuti e dare nuove piattaforme concepite per far crescere la società con dentro la scuola con dentro la cultura il digitale deve essere dentro la scuola questa è la grande novità e la scuola può contribuire alla crescita dell'intera società ma anche i musei ma anche le biblioteche tutto deve convergere in una nuova forma del digitale che deve far crescere la nostra società italiana in una nuova dimensione che è quella che ci sta aspettando e che arriverà con l'altrettanta velocità nei prossimi anni dobbiamo sapere affrontarla e con coraggio essere pronti a questa trasformazione digitale da italiani Maragliano siamo pronti o ci sono ancora troppi pregiudizi mi sembra di capire che lei sia un po' più scettico sul tema no no io sono profondamente ottimista cioè nel senso che peggio di così non può andare cioè questo shock costringerà certamente a cambiare a cambiare le cose e quindi prendere atto di ciò che abbiamo alle spalle cioè l'immobilismo diciamo filosofico ecco rispetto alla scuola cioè la difficoltà a fare i conti con l'esigenza di cambiare il modo di concepire e di praticare la scuola noi abbiamo ancora una scuola insisto su questo ottocentesca perché è stata fondata 160 anni fa con una precisa intenzione di riportare ad unum la cultura delle classi della formazione insomma delle classi dirigenti con una decisa gerarchia di sapere in cui il sapere umanistico ha un rilievo centrale e il sapere scientifico cioè è laterale il sapere tecnologico zero tutto ciò passa attraverso il libro cioè la stampa è chiaro è un'impostazione diciamo di quel periodo che poi è stata confermata diciamo col modello di scuola è stato confermato anche col col fascismo ma soprattutto è stato confermato nel periodo successivo cioè nell'Italia repubblicana praticamente non è stato messo in crisi quell'impianto lì abbiamo fatto esempio abbiamo fatto la riforma della scuola media 60 anni fa per vent'anni siamo stati a discutere del latino come ci dovesse essere in che misura ma non siamo usciti da quell'ordine di priorità poi non si è fatta la riforma della scuola secondaria superiore non si è mai toccato il problema del che cos'è importante insegnare a scuola adesso poi la questione è diventata ben più complessa perché adesso dovremmo dire cos'è importante che loro imparino quindi dato che oggi abbiamo altri strumenti non è più soltanto il libro abbiamo tutti questi altri strumenti che esaltano la dinamica dell'apprendimento e marginalizzano l'idea di insegnamento come luogo centrale di come dire di riproduzione e di diffusione del sapere in campo pedagogico si fa presto a dire essere contro determinati meccanismi di riproduzione del sapere no no non sono parole sono cose su sostanza cioè si apprende attraverso la costruzione della conoscenza e lo si fa anche in gruppo finché si è dentro la logica del libro questo non può essere ma fuori di quella logica è chiaro che c'è il suono l'immagine l'operatività tutto ciò che è attualmente esaltato dal digitale anche se poi il digitale ha mille altri problemi ma dovremmo assumere proprio l'atteggiamento di quell'altro filone di elaborazione che parallelamente è cresciuto ma limitatamente rispetto al modello scolastico sto alludendo a ciò che è nato diciamo dieci anni dopo la fondazione della nostra scuola cioè Maria Montessori la quale poi arriva alla fine della sua vicenda a dire che bisogna ripensare la scuola dei grandi non la scuola dei bambini la scuola dei bambini la dava già per come dire per morta perché i bambini devono essere ascoltati devono essere accolti devono poter fare determinate cose e forse qualche cosa è riuscito a farlo passare ma per quanto riguarda invece quest'ultimo messaggio cioè bisogna ripensare completamente drasticamente la scuola delle discipline la scuola dell'insegnamento bene su questo a questo discorso non abbiamo mai prestato attenzione ora che la rivoluzione diciamo così del digitale ce lo impone questo discorso e ora che siamo dentro la crisi del coronavirus beh io credo che questo sarà il momento in cui dobbiamo fare buon viso a un gioco che è stato presentato fin qui come negativo invece è un buon gioco fare buon viso a buon gioco perché nella nella trasformazione digitale c'è tanta qualità da scoprire da rivendicare e da portare anche in aula senta infatti questo potrebbe essere uno spunto per riutilizzare rivalurizzare le intelligenze multiple che mi sembra sia un tema che accarezzava Chiofalo e potrebbe essere anche questo l'input per fare in modo che pensiero computazionale pensiero scientifico si armonizzino con questo nuovo umanesimo forse la strada potrebbe essere quella Chiofalo ci aiuti a chiarire La domanda che è stata posta dal pubblico è molto interessante sia per gli aspetti di ricerca che per gli aspetti culturali per quelli di ricerca c'è un grandissimo dibattito in corso tra l'altro è un argomento di ricerca piuttosto di frontiera al momento che tocca naturalmente l'intelligenza artificiale le neuroscienze e anche la fisica quantistica molti conoscono Penrose perché qualche mese fa no un mese fa all'incirca è stato insegnito del premio Nobel per altre ricerche quelle in particolare sui bucineri ma Roger Penrose è anche una persona che ha uno scienziato un filosofo un matematico e un fisico a proposito di interdisciplinarietà e di umanesimo scientifico che ha proposto una delle più interessanti teorie della coscienza secondo la quale detto veramente molto in breve il momento della coscienza avviene quando il nostro pensiero smette di essere computazionale classico o quantistico e lui propende per il quantistico e diventa non computazionale e quindi questo per dire qual è l'ampiezza del tipo di discussione che si fa oggi e l'altra cosa che da un punto di vista metodologico della ricerca ci sono dei nuovi approcci alla ricerca scientifica che si chiamano di citizen science cioè che coinvolgono anche la cittadinanza nella realizzazione di una ricerca per cui i cittadini e le cittadine vengono coinvolti attraverso dei giochi dei videogiochi ritorno a Maria Montessori che diceva che il gioco è il modo attraverso il quale le bambine e i bambini ma anche noi impariamo apprendiamo quindi utilizzare dei giochi per per convogliare la creatività della mente umana di chi gioca nella soluzione di un problema cioè utilizzando le strategie di gioco per poi immetterle in computer classici o quantistici attraverso algoritmi si chiamano di machine learning specifici e questo è una nuova modalità di fare ricerca che sta prendendo piede da un punto di vista culturale vengo alla seconda questione che la dottoressa Sant'Arpia poneva la questione della divisione in discipline che diceva anche prima Roberto Maragliano è purtroppo una piaga che noi continuiamo a non riuscire a togliere dal nostro sistema scolastico penso con grande interesse all'esperienza delle scuole finlandesi la più grande rivoluzione degli ultimi anni che ho avuto la possibilità l'opportunità di visitare con Digital Schools of Europe in Finlandia hanno completamente aperto ogni barriera tolto ogni barriera le barriere tra le discipline quindi si apprende c'è un tema che è interessante e su quello si lavora attraverso tutte le discipline quelle scientifiche quelle umanistiche hanno allo stesso modo hanno eliminato le aule nelle scuole e hanno eliminato le classi sostituendole con gruppi di apprendimento questo per dire che questa cosa delle discipline e al contrario dell'interdisciplinarietà che dovrebbe invece caratterizzare l'apprendimento è quello che facciamo nella scuola dell'infanzia ma poi man mano che andiamo su fino alla mia università nell'università tutto avviene per discipline ma questo è profondamente sbagliato persino nella fisica Galileo era uno scienziato ma era anche un grande critico d'arte suonava il suo liuto e faceva tante altre cose quindi noi dobbiamo ricongiungere queste culture quella umanistica e quella scientifica dobbiamo lavorare sull'umanesimo scientifico e in questo io uso come e concludo la risposta come due idee ispiratrici di Howard Gardner che è un grande psicologo pensatore filosofo del nostro tempo che è appunto come tu ricordavi Valentina l'idea delle intelligenze multiple ma aggiungo anche una sua seconda molto valorosa idea che è quella delle cinque menti per il futuro nella teoria delle intelligenze multiple Gardner sostanzialmente dice che l'intelligenza a proposito di quello che si diceva prima è un potenziale che viene applicato in un contesto ed è diciamo una consapevolezza di che noi mettiamo una competenza scusate che noi mettiamo in relazione con un contesto e quindi è chiaro che se questo è un principio ispiratore le discipline non possono chiaramente funzionare come paradigma di apprendimento e dice anche che la la nostra intelligenza in realtà è una composizione unica di molte intelligenze diverse che sono l'unica ne elenca fino a 10 ciascuna di queste è relativa a un certo canale di comunicazione relativa a una certa area del cervello ma questo non ha niente a che fare con le discipline di nuovo e soltanto il modo in cui noi ci mettiamo in relazione con la realtà e in più aggiunge il fatto con le 5 menti per il futuro cerco di essere molto sintetica con le 5 menti per il futuro aggiunge questa idea secondo me abbastanza interessante per cui le 5 menti per il futuro che noi dovremmo sviluppare e coltivare a scuola sono la mente disciplinata appunto quella che coltiva delle discipline ma discipline di nuovo non come separazione di saperi ma come modo di pensare quindi il pensiero scientifico il pensiero storico il pensiero artistico sono quelli assolutamente fondamentali almeno lui ricorda e la mente sintetica in questo mondo di informazioni alle quali noi possiamo accedere i nostri ragazzi i nostri ragazzi e noi stessi possiamo accedere in un nanosecondo dal qui all'altra parte del globo come ci orientiamo per selezionare le informazioni che sono veramente importanti e poi la mente creativa la mente rispettosa e la mente etica e a proposito della mente creativa anche io un messaggio e una proposta per la ministra in nessuna parte del nostro sistema scolastico si fa educazione alla creatività e io credo che questo sarebbe un altro elemento abbastanza rivoluzionario anzi rivoluzionario e basta che data la crisi che stiamo vivendo potrebbe davvero potrebbe davvero portare dei frutti straordinari e le tecnologie seguono finora non ho parlato assolutamente di tecnologie ma le tecnologie seguono le tecnologie si progettano e si pensano sulla base della funzione che devono avere ed è il motivo per cui le tecnologie pensate così in maniera avulsa dal contesto diventano totalmente inutili se non sono radicate in una cultura in una cultura dell'apprendimento dell'insegnamento e dello sviluppo delle capacità umane e di tutti i talenti in una personalizzazione dell'intervento educativo questo le tecnologie lo consentono molto chi è ancora restio sulle tecnologie dico vanno sempre usate bene ma voglio ricordare che le tecnologie hanno consentito di risolvere problemi inimmaginabili per esempio per la personalizzazione dell'intervento educativo per quanto riguarda studenti con diverse abilità studenti con diversi con disturbi specifici di apprendimento attraverso gli strumenti compensativi ma la questione della didattica a distanza prima di Anora diceva non c'era mai stata anche altri lo dicevano delle piccole esperienze ci state sono state le esperienze per esempio delle scuole in ospedale con smart inclusion 2.0 4.0 sono esperienze ormai antiche di una decina d'anni e insegnano come quando si progettano dei percorsi di apprendimento e relative tecnologie per una piccola parte dei destinatari e delle destinatarie possibili che la parte più fragile se su quella si lavorasse davvero mettendo dentro tutti si farebbe qualcosa che poi vale anche per il futuro che è proiettata per il futuro non risolve un'emergenza ora o un problema ora per una ristretta parte di popolazione ma risolve un problema ci proietta nel futuro e risolve un problema davvero enorme in questo senso covid continua a essere una grande opportunità Chiofalo grazie è veramente molto affascinante quello che dice dobbiamo chiaramente stringere i tempi volevo visto che questa potrebbe essere una strada e mi sembra che c'è qui appunto Gianfagna che ha già in qualche modo intrapreso questo movimento fattivamente praticamente ci indica che è una domanda che ci arriva proprio dal pubblico che strumentazioni dal punto di vista tecnico ha messo in campo e che tipologia di corsi ha programmato guardi per quanto riguarda le tecnologie abbiamo parlato appunto dei robot e quindi diciamo io parlo di tecnologie dinamiche nel senso che si spostano nell'ambiente e poi abbiamo l'IM il panel attraverso i tablet i computer gli smartphone come strumenti per la formazione noi abbiamo lavorato molto sul metodo di studio come i ragazzi dovessero imparare a studiare e come invece praticamente gli insegnanti dovessero reinventarsi la nuova scuola quindi la formazione dei docenti soprattutto sul discorso della scuola per le competenze noi da tempo non ragioniamo per discipline ma per dipartimenti ho avuto la fortuna appunto di fare formazione in Finlandia quindi da anni ormai io faccio questo tipo di scuola dove mandano consideri che questo è un convitto che ha 200 anni e abbiamo praticamente l'avanguardia per quanto riguarda il discorso delle metodologie e appunto della didattica in un ambiente così importante da un punto di vista dico storico c'è tanta modernità noi il discorso per esempio della formazione delle discipline ai dipartimenti e la didattica per competenze è fondamentale è lì che abbiamo praticamente fatto il cambiamento non abbiamo l'orario di 5 ore scolastico attraverso la didattica digitale ci sono gli insegnanti che fanno le lezioni insieme ragazzi a più voci perché così perché una lezione di arte non deve essere fatta solo dall'insegnante di arte come il momento dell'inglese come il momento del latino dell'italiano la matematica quindi c'è un altro modo di fare scuola oltre al fatto che ci sono i momenti in cui appunto si parlava anche di valutazione la valutazione come la possiamo fare attraverso anche i ragazzi che fanno lezione non è l'interrogazione e come ci propongono e come spiegano un argomento e quell'argomento annoia la classe e gli vedi le competenze perché saperlo fare apprendere agli altri è un altro modo proprio di fare scuola quindi che cosa noi abbiamo imparato a me viene spontaneo collegandomi alle intelligenze multiple io parlo di scuola multipla quindi ormai non ci può essere più un solo modo di fare scuola e una sola scuola ci sono vari modi di fare scuola e a secondo della situazione che tu stai vivendo e la pandemia ce l'ha insegnato o anche della realtà socioambientale in cui vieni mandato a dirigere in qualche modo una scuola devi fare la tua si parlava di riforme della scuola la scuola non ha più bisogno di riforme io tremo ogni volta che cambia un governo perché parte la riforma la scuola ha una grande risorsa che è quella dell'autonomia scolastica l'unica grande riforma è quella di potenziare l'autonomia scolastica attraverso l'autonomia scolastica appunto si fa formazione si modifica l'orario scolastico come abbiamo fatto noi noi abbiamo più orari scolastici quello per la didattica a distanza quello in presenza oltre ad aver creato per esempio un'altra cosa che abbiamo messo in campo il convinto online lo chiamo io cioè abbiamo creato durante il lockdown e quindi eravamo pronti già a settembre con un altro tipo di scuola cioè la scuola in presenza ma anche il cosiddetto convinto online un po' riprendendo da quelle che sono diciamo le università telematiche abbiamo creato questo convinto online dove ci sono delle lezioni diverse e di alto livello che i nostri ragazzi possono seguire si iscrivono a una password e devono per superare lo step devono fare appunto delle prove gli esami o altro ma è un altro modo per esempio c'è una lezione di arte sulla street art bellissima con il linguaggio dei ragazzi e quindi anche in attività di potenziamento e quindi anche un potenziamento del pensiero creativo che era quello di cui parlavamo prima in qualche modo assolutamente cioè l'educazione e la creatività io sono convinta appunto che è fondamentale ma deve essere trasversale e nel modo di fare scuola attenzione che qualcuno non si inventi di mettere come disciplina e che poi bisogna vedere e insegnarla perché non si può più pensare che è una cosa del genere cioè l'educazione e la creatività c'è e ci deve essere in tutte le cose che noi facciamo nella scuola e quello in che modo io dico in quanti modi posso fare scuola in quanti modi posso entrare in contatto con i ragazzi in quanti modi loro possono ottenere e quindi è questa diciamo la creatività quindi nella scuola bisogna mettere in atto soprattutto quella che è l'autonomia scolastica e da questa situazione dalla pandemia dal mio punto di vista da come noi abbiamo organizzato la scuola praticamente la scuola nesce rafforzata nesce rafforzata perché si è dovuta rimettere in gioco in discussione si è modificata insomma noi abbiamo praticamente a me che vendono in giro insomma per fare la battuta chi viene a visitare questa scuola dice sempre una scuola cinese io che ho studiato e ho fatto anche formazione in Finlandia mi sembra cioè la prendo come un complimento nel senso che vedono i bambini che si spostano ordinati che fanno questo che sanno i dipartimenti i bambini si spostano dalla prima elementare fino all'ultimo anno del liceo dice io vado di là a fare lezione matematica cioè c'è il dipartimento scientifico vanno nel dipartimento scientifico lei mi dà grazie grazie per questo spunto perché in qualche modo ha risposto a quello che voleva essere il mio ultimissimo giro ma veramente velocemente lei mi ha detto come sente che la crisi abbia trasformato la sua scuola e la sua realtà e volevo fare esattamente la stessa domanda molto velocemente per rimanere nei tempi giusti agli altri relatori cioè cosa ci portiamo dietro società scuola noi come persone ma soprattutto immaginandoci anche un futuro che sarà sicuramente diverso dopo questo grande trauma cosa ci si porta dietro partirei con Lancini cosa ci si porta dietro la resilienza vedremo perché siamo ancora immersi che cosa io mi porto dietro questa mattinata davvero interessante lo dico davvero non perché sono stato invitato e anzi mi porto dietro quello che è quello che sento dire da bambino diciamo le discipline che si intersecano bellissimo il tema della creatività l'ho visto troppe volte i bambini creativi piacciono quando si entra nelle scuole secondarie se si dice che un figlio è uno studente creativo vuol dire che non sta studiando niente per molti insegnanti purtroppo anche per molti genitori quindi prendo l'interdisciplinarietà mi permetto di dire che avrei già il programma di un lunedì prima ora di lezione per gli adolescenti ovviamente corpo perché così possiamo parlare di cosa vuol dire crescere oggi nella società del corpo sotto sequestro dei genitori e del corpo estetico seconda morte e suicidio dove si può parlare con tutte le discipline rimossi dalla nostra società ora la morte ce l'hanno sbattuta in faccia ma il suicidio non ne parla nessuno ed è un tema che mente nei ragazzi poi si può parlare della società pornografizzata dove il confine tra intimo e privato è caduto e cosa vuol dire costruire l'identità e la generatività nella società della procreazione assistita se vuole vado avanti argomenti per i quali i ragazzi vorrebbero andare a scuola tutti i giorni a parlare no no ho finito no ok mi fermo qui perché voglio fare un velocissimo giro Barbie che cosa ci si porta alle nuove specializzazioni cosa ci portiamo dietro secondo me ci portiamo dietro tanti spunti su cui noi dobbiamo veramente riflettere una giornata come questa serve proprio per fermarsi e riflettere e capire le positività e le criticità di un'esperienza come quella che abbiamo vissuto ma soprattutto la scuola si sta interrogando questo è molto importante su come deve affrontare il futuro il discorso della transdisciplinarietà il discorso del fare lezioni in compresenze virtuali usare il web come ambiente che risolve tanti problemi che nella realtà le scuole hanno no lavorare in gruppi lavorare anche tra i docenti in forma veramente collaborativa di condivisione una nuova scuola una nuova scuola io conosco molto bene l'esperienza di Rossella Gianfagna ci conosciamo da tanti anni lavoriamo insieme da tanti anni ecco mettere in pratica certo l'autonomia per pensare veramente ad una nuova scuola la scuola oggi ha bisogno di fermarsi fermarsi e capire e riflettere studiare capire cosa c'è stato di positivo che cosa c'è stato di criticità ma e andare su una nuova strada potenziando naturalmente gli aspetti positivi noi da sempre come Impara Digitale proponiamo la didattica per competenze la transdisciplinarietà superare le singole discipline adesso ci stiamo portando anche sull'immersività nei bambini dell'infanzia stiamo creando l'aula immersiva insieme anche a Roberto Carraro perché i bambini possano vivere delle esperienze emozionali e veramente riflettere su utilizzare i loro canali per entrare veramente a supportarli nella loro crescita nel loro processo di apprendimento ecco tutto questo io credo che la scuola lo può affrontare nel momento in cui ha il tempo di fermarsi riflettere e fare veramente dei passi avanti verso la vera innovazione bene bene benissimo appunto lei citava Carraro Carraro che cosa che cosa si porta la scuola da questo momento così difficile di crisi la vittoria del virtuale surreale assolutamente no direi che quello che si porta dietro è lo shock dell'innovazione cioè noi tutti siamo stati costretti a creare qualcosa di nuovo siamo stati di fronte a delle sfide pazzesche io stesso che insegno all'Accademia Libriera ho dovuto reinventare il corso e l'ho basato sulla creatività quindi la creatività come centro della didattica in cui tu coltivi la creatività in rete coltivi l'interazione in rete finché diventa partecipatività e alla fine l'esame non è il mio corso ma è una creazione dello studente una trasformazione copernicana che può essere fatta anche grazie agli strumenti digitali l'ultima cosa internet non siamo collegati solo la stanza del docente e la stanza dello studente in mezzo c'è un mondo che cresce un universo in continua espansione la scuola può contribuire a farlo crescere e con esso far crescere la società è un mondo che stiamo creando in tempo reale e ogni docente può costruire un nuovo spazio di questo universo che può davvero far crescere l'intera cultura ed è veramente una sfida fondamentale Maragliano che cosa ha imparato il sistema dell'istruzione ha gli elementi per una nuova riforma anche se Giampagna dice che non ne abbiamo bisogno ma attenzione non parlo di riforme in senso materiale ma di riforme proprio del pensiero allora si porta dietro mi auguro che si porti dietro perché è quello che si sta già facendo l'esigenza di elaborare una pedagogia uso la parola esplicitamente in modo non accademico una pedagogia mondana cioè capace di misurarsi con il mondo per come è e per il tipo di scuola che deve essere adattata a questo mondo il che vuol dire allora in pratica che bisogna lavorare per dare autonomia è già stato detto e flessibilità mentale ed operativa e quindi di conseguenza creatività però attenzione non permettiamo che questi diventano degli slogan e basta o che diventino quelle che un tempo si chiamavano delle circolari per cui ci si presenta al mondo dicendo vedi noi abbiamo tutto a posto perché c'è scritto questo no no dobbiamo praticarle che vuol dire l'autonomia vengo da esperienza universitaria non certo positiva l'autonomia non può non essere anche autonomia culturale bisogna avere il coraggio per alcuni aspetti di mettere in crisi l'idea di un centralismo culturale ci saranno alcune cose fondamentali definite centralisticamente ma poi bisogna che fin dalla scuola dell'infanzia insomma ognuno ogni situazione ogni contesto abbia una sua autonomia anche nella decisione di ciò che è importante far apprendere ripeto sempre far apprendere e non insegnare mi augurerei che in prospettiva il discorso dell'insegnamento fosse sempre subordinato all'esigenza del far apprendere perché troppo è evidente oggi almeno per chi vive una pedagogia mondana che se c'è un luogo dove non si apprende è proprio dove c'è un insegnamento direttivo mentre fuori di quel modello generalmente si apprende Gianfagna che cosa che cosa ereditiamo una nuova visione un nuovo compromesso fra presenza e assenza di cui la sua scuola può essere un esempio ma io non lo so se la mia scuola può essere un esempio diciamo che a noi piace fare scuola così e devo dire che i risultati ci sono ce lo dicono i ragazzi perché se in poco tempo abbiamo triplicato le iscrizioni e c'è la lista d'attesa per venire da noi vuol dire che lavoriamo bene io credo che la cosa importante sia l'ha detto prima il professor Managliano se non sbaglio cioè l'unica grande riforma se vogliamo dire riforma anche se ripeto questa cosa a me terrorizza questa parola è quello che diceva proprio lui cioè il fatto appunto di dare il giusto senso e la giusta forza a quella che è l'autonomia da tutto ciò noi che cosa abbiamo imparato dal fatto che c'è appunto una scuola mista vari modi di fare scuola il discorso di dare importanza sempre di più all'attività che non è una disciplina ma è il modo diverso di insegnare nella scuola quindi è addentro quelle che sono io dico le discipline e i dipartimenti in questo caso e soprattutto ancora di più non vedere l'alunno come qualcuno che sta lì seduto al banco e aspetta che tu entri spieghi o interrovi o quel giorno c'è il compito ma invece ci deve essere una scuola interattiva dove si interagisce ognuno di noi ha da dare e da apprendere dall'altro questa è la cosa importante cioè il dialogo non si deve interrompere qui ma deve essere un momento di crescita noi ci siamo rialzati da tutto questo abbiamo con la schiena dritta dico io andiamo avanti abbiamo completamente stravolto la scuola e questa cosa ci piace e andiamo avanti così bene bene la ringrazio io direi che siamo praticamente giunti ai saluti finali vorrei provare a tirare le conclusioni di questo momento di riflessione che credo sia stato davvero molto interessante se la ministra Azzolina cercava degli spunti immagino che dal nostro panel li abbia avuti educazione alla creatività un umanesimo scientifico lo sviluppo delle intelligenze multiple una scuola che sia più rispettosa del dialogo con gli studenti che sfrutti le tecnologie in maniera intelligente dinamica appunto creativa come dicevamo mi sembra di capire che quello che sembrava un tema pessimistico quasi arido il trauma in realtà nella cura ha trovato la sua risoluzione cioè noi abbiamo davanti a noi tutte le risorse possibili per poter avere una scuola migliore dobbiamo semplicemente metterle in campo sfruttarle fare in modo che una serie di pensieri e di risorse tirate fuori in questo periodo così difficile di crisi diventino poi delle nuove pratiche innovative da adottare giorno per giorno non solo nelle famosi circolare ma anche appunto nella pratica della didattica e dell'apprendimento io ringrazio davvero tutti i miei ospiti di questa giornata e in particolare di Anora Bardi la nostra ospite che ci ha permesso di vivere questa giornata e questo momento di riflessione così importante lei innovatrice della didattica che in qualche modo ci permette anche ogni anno di fare un passo in più in questa direzione grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti